Amici di Quarta Parete, buonasera, mi trovo sul palcoscenico del Teatro San Paolo, qui proprio attaccati alla Basilica, perché da questa sera, all'ora 21, ma lo sarà fino a dopo domani, 14, sempre all'ora 21, lo spettacolo Diversi e Divini. C'è un evidente gioco di parole, perché parliamo di poesia, ma anche di buon vino, magari. Esatto, e ne parliamo con l'autore, protagonista, insieme alla dolce fanciulla qui accanto a me, quindi con Camillo Marcello Sorciaro e Lucia Fiocco. Buonasera a voi, ragazzi. Allora, questo esperimento tra poesia e vino. Allora, diciamo che è un esperimento antico, quello della poesia e del vino. Assolutamente. Questo Diversi e Divini nasce un po', in realtà non è proprio uno spettacolo, è una piccola rassegna dedicata alla poesia. Sì, sì, all'interno, esatto. Ogni sera c'è uno spettacolo diverso. Sì, sono tre giorni, con ogni sera uno spettacolo diverso. Il primo giorno uno spettacolo dedicato all'epica domani. Poi lo andiamo a elencare. Nasce un po' dalla mia passione per la poesia e a Lucia Fiocco, così come a Martina Galletta, che è un'altra delle attrici che ci sarà da domani, e ho proposto questa follia, loro mi hanno sposato e cerchiamo di proporre al pubblico la bella poesia. Quindi attratti dalla poesia, ma anche dal vino, chi lo sa? Certo, assolutamente sì. Allora, Lucia, questa esperienza ti ha garbato subito, mi pare. Sì, decisamente, vabbè, principalmente per la stima che ho nei confronti di Camillo, dei suoi lavori e via dicendo, e anche per l'amore che ho verso l'epica. Bellissimo. I testi omerici mi sono entrati nel cuore fin dal liceo, io ho fatto il liceo classico, e questa riproposizione, questa formula così particolare come può essere quella di un reading musicale, mi è sembrata veramente un'ottima opportunità per rispolverarli, risolverarli e soprattutto, perché no, anche per cimentarmi con una cosa come il reading, che è una cosa che non ho mai fatto, molto particolare, molto anche piacevole da vedere, senz'altro. Consideravo che in realtà nell'ambito del teatro offre non è molto cavalcato come genere il reading della poesia. No, assolutamente, anzi, solitamente viene preso in considerazione con il passare degli anni. Esatto. Però io, grazie ad altri maestri che ho incontrato nel mio percorso, ho avuto la fortuna di conoscere questa forma d'arte, ho un po' sposato quello che dice Carmelo Bene, meglio sentire bene che non vedere. Effettivamente, secondo me, l'ascolto di qualcosa può suggestionare, può stimolare l'immaginazione. assolutamente, deve essere quello, il codice deve essere quello, quello evocativo, deve assolutamente evocare il reading. Allora, dicevamo che ci saranno tre spettacoli diversi, quindi questa sera partiremo con Mythos, dico bene, e quindi con Lucia, le musico originali di Davide Guglielmi e Alessio Guacci. Ok? Quindi Mythos, memoria di un racconto. Parliamo un pochino di questo... L'epica di Omero, è un viaggio all'interno dell'Iliade e dell'Odissea, è difficile raccontarla tutta naturalmente, quindi sono state fatte delle scelte all'interno dei libri, però cavalchiamo le parole dei personaggi più famosi, da Achille a Ettore, da Priamo ad Andromaca, la Maga Circe, Nausicaa, le Sirene, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è un viaggio molto fantasioso, l'Iliade e l'Odissea forse sono il, non lo so, il signore degli anelli di millenni fa. Fantastico, bella come accostamento. Poi domani, 13 dicembre, avremo lettura d'Anti, se qui entra in gioco immagino la Divina Commedia, ci sarà appunto Martina Galletta, le musico originali sono di Edi Castella Kim 90, è una persona sola, bene, e poi accompagnato anche da un supporto, diciamo, di illustrazioni del maestro Achille Incerti. Ecco, anche qui credo ci sia poco da dire, ma molto da ascoltare, no? Assolutamente, molto da ascoltare e qualcosa da vedere, perché io ho scoperto le illustrazioni del maestro Achille Incerti e sono pazzesche, fantastiche, lo spettacolo è nato un po' da questo, dalle immagini che mi hanno suggerito, dei suoni, mi hanno suggerito delle ambientazioni. Quindi questo accostamento è quasi obbligatorio? Eh sì, parole, musica e immagini di un viaggio divino, credo che poi alla fine, alla fin dei conti, i tre linguaggi sono imprescindibili. Bene, e concluderemo dopo domani con Storia Nostra, viaggio nel mondo della poesia italiana, sempre con Martina Galletta, con le music originali di Davide Cuglielmi. Ecco, qui cosa possiamo dire? Allora, devo dire che la poesia rappresentativa di questo spettacolo è una poesia che si chiama E lasciatemi divertire di Palazzeschi, siamo nel futurismo. Quindi? È una carrellata all'intero spettacolo di poesia italiana, dal 300 ai giorni nostri, però diciamo che è molto gradevole, è un'ora di spettacolo, non di più, un concerto più che uno spettacolo e sostanzialmente quello che vorremmo uscisse fuori, che solitamente esce fuori soprattutto con i ragazzi, perché questi spettacoli debuttano questa sera, fra virgolette debuttano perché alcuni già sono andati in scena, però pochissime volte la sera, ma nascono quasi esclusivamente, sottolineo quasi, per le scuole, mi piace molto lavorare con i ragazzi e quello che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi è proprio il fatto che con la poesia ci si può divertire e quindi è lasciatemi divertire di Palazzeschi, che poi in realtà è una poesia quasi di denuncia, però è molto, diventa emblematica, sì sì simbolica. Parliamo di ragazzi delle scuole, ecco, dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista, cosa, come hai visto che reagiscono questi ragazzi di fronte a temi così importanti? Allora, io dirò due cose, cercherò di essere breve, la prima è che io adoro il pubblico dei ragazzi perché sono un po' quel pubblico che forse c'era a teatro 50-60 anni fa, se lo spettacolo non gli piace rischi di doverlo fermare, però a quel punto forse dovresti porti delle domande, ecco, forse noi attori oggi abbiamo poche possibilità di porci delle domande perché il pubblico è molto abituato all'applauso, dico una cosa molto rischiosa da attore, però ci credo veramente. E la seconda, ecco, forse è proprio il ricordo che c'ho in questo teatro dove ho fatto Matiné non troppo tempo fa con Storia Nostra e una ragazza ha scritto poi su un quaderno che io lascio sempre nel foyer dove cerco di raccogliere le dediche e i consigli dei ragazzi, una ragazza ci ha lasciato una frase bellissima perché ci ha detto grazie della fiducia, solitamente la poesia ci viene posta come qualcosa di troppo distante, qualcosa che non possiamo capire, invece voi avete creduto che poteva appartenerci. E questo secondo me è stato meraviglioso. Devo dire che in realtà è molto coraggioso, perché in realtà poi, voglio dire, è come l'equilibrista senza rete, cioè così rischio che poi ti fai male. Assolutamente. Però credo che avere un consenso da parte dei ragazzi così giovani, magari anche poco interessati inizialmente al teatro, cioè è il modo... La poesia in particolare. Assolutamente. Credo che sia veramente un'operazione fiducia fondamentale, ma anche per educarli, voglio dire, poi al proseguo del teatro, nella conoscenza del teatro. Sì, insomma, la speranza è forse quella di contribuire, quando lavoriamo in matinee, di contribuire alla crescita dei ragazzi. Poi probabilmente in piccolissima parte noi possiamo dare il nostro apporto, però chissà, magari qualcosa resta. E come, faccio un parallelo, come ti posso dire, mettere dei semini in un campo e vedere poi le piantine che escono fuori. Cioè mi dà questa figura, no? Questo parallelo. In realtà passo proprio la parola a Lucia, perché noi ci siamo conosciuti... Sì, racconto brevemente questo aneddoto. Diciamo, c'è una lieve differenza d'età tra me e Camillo. Noi siamo una coppia e io, caso ha voluto che lo conoscessi proprio in scena, andando a vederlo con la mia scuola, in uno spettacolo. E al di là dell'imprinting sul piano personale, che poi in realtà è maturato col tempo successivamente, il primo vero amore che mi ha acceso è stato quello verso il teatro. E quindi, forte di questa esperienza, mia personalissima chiaramente, però ripenso alla me studentessa e mi dico, caspita, effettivamente gli spettacoli di Camillo hanno avuto un grosso impatto nella mia vita, sicuramente lo hanno in modo magari diverso, anche su altri ragazzi. Questo è un valore chiaramente grandissimo. Simbolico. Simbolico. Direi simbolico, ma credo che sia il modo migliore per avvicinare poi i giovani, i ragazzi al teatro. Se pensiamo a tanti giovani buttati per strada, nelle varie bischie, che ne so, davanti al televisore, con gli smartphone. Cioè, voglio dire, questo poi è un discorso che io mi faccio sempre e naturalmente poi non possiamo non pensare che i giovani di oggi saranno poi gli spettatori di domani, no? Certo. Assolutamente. Allora, io credo che... Chiaramente dipende anche dagli input che vengono dalla famiglia, no? Convenite? La famiglia e la scuola. È anche vero che è proprio difficile oggi, con i ritmi che ci sono, con le difficoltà che ci sono, sia essere famiglia che essere scuola. Naturalmente. Però io credo che forse il compito di chi sta sul palcoscenico è veramente quello di avere fiducia nei confronti. Ma è una cosa di responsabilità anche, no? Assolutamente, però insomma, a distanza di anni, io sono felicissimo. Certe volte la poesia veramente, come dicevi, viene accolta con un... Sì, a Roma si dice palloso. Eh sì, è un po' palloso. Invece certe volte addirittura vengono a chiederci i bis di marzo 1821, che sono poesie molto retoriche, manzoni, con un linguaggio molto difficile. Quindi la cosa fa riflettere. E forse la conclusione alla quale sono arrivato è che... Sono arrivato è che un ragazzo, un adolescente, effettivamente non ha tutte le sovrastrutture che forse abbiamo noi. Quindi è più facile provare a parlare con lui. Questo non vuol dire che sia semplice. No, no. Però se si trovano i canali giusti e noi proviamo a lavorare in questa direzione... Però il rischio vale la pena. Vale la pena, è bellissimo. E' veramente bellissimo. Dunque, io vi ringrazio. Devo dire che è stata una chiacchierata molto piacevole questa, ma anche illuminante sotto certi aspetti. Allora, io ribadisco l'appuntamento da questa sera diversi e divini. Camillo Marcello Ciorciano, che è lui, che è l'autore di questo reading e anche il regista, con Lucia Fiocco qui accanto a me, appunto esurdiranno oggi con Mythos, Memorio di un racconto. Poi domani avremo Martina Galletta con Lectura d'Antis, Parole e Musica di un Viaggio di Vino su Tanti Alighieri. E concluderemo il 14 sempre con Martina Galletta e Davide Guglielmi. E scusate, sì, le musiche, perché hanno anche loro una funzione fondamentale. Storia nostra e viaggio nel mondo della poesia italiana. Teatro San Paolo, ore 21, per tutte e tre le serate. Io vi ringrazio, ragazzi, grazie mille. Grazie mille a te. E buona poesia. Buona poesia. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.